Siamo con Massimo Seri, Assessore al lavoro dell'amministrazione provinciale. Assessore Seri, è capitato con questo incarico in uno dei momenti più brutti da un punto di vista generale che potesse capitare? Sì, è come è stato detto veramente un momento molto difficile per il nostro territorio. E' vero che è una crisi globalizzata e non riguarda soltanto le Marche, la provincia di Pesaro, questo territorio, però onestamente è un momento particolarmente difficile. La situazione, anche se si registrano alcuni segnali di ripresa a livello nazionale, però sono convinto che gli indicatori che noi possiamo leggere, onestamente ci dicono che il periodo di difficoltà, di sofferenza non è ancora finito, anzi probabilmente per quello che riguarda le lavoratrici e i lavoratori ancora il peggio deve ancora arrivare. Cosa fare? Come reagire? Bene, i binari sono due su cui si cerca di operare. Da una parte aiutare il reddito delle famiglie e in qualche modo difendere il lavoro. aiutando coloro che in qualche modo vengono espulsi o si trovano in una situazione di sospensione, creando momenti anche di formazione perché oggi purtroppo questa crisi richiede anche una maggior formazione perché il mercato di lavoro sta facendo una forte selezione. Per cui quando le persone coinvolte cominciano ad avere anche un'età non più giovanissima perché la maggioranza di coloro che vengono espulsi sono coloro che vengono compresi fra l'età di 35 e 50 anni. Quindi questo è un momento anche della vita particolare, richiede una particolare formazione proprio per ridare nuove opportunità di reinserimento. Per quello che riguarda il nostro territorio anche il comprensorio del piano del bruscolo registra un momento di sofferenza particolare, ci sono aziende che chiudono, aziende che si riorganizzano e anche verso queste la provincia sta facendo uno sforzo, uscirà a brevissimo un bando che vede risorse per 2 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese perché l'altra cosa che va registrata ed è caratteristica dei nostri territori è che le nostre attività produttive sono composte da piccole imprese, artigiani e queste hanno una difficoltà maggiore rispetto alle grandi aziende ad affrontare in momenti di difficoltà come questi. Lei ha parlato di necessità di una formazione, presumo di una formazione diversa rispetto a quella che è stata fatta fino ad oggi ha parlato di piccole imprese, quindi sostanzialmente ha sollevato anche un tema di una specificità nell'ambito di una crisi più generale della nostra crisi. Ecco, rispetto a questo tipo di problema, cioè come aiutare a uscire fuori dalla crisi le nostre piccole aziende, i nostri giovani che cercano occupazione, che cosa possono fare le istituzioni da questo punto di vista? Ma un elemento è chiaro, questa crisi rivoluzionerà il mercato, rivoluzionerà la produzione, quindi la prima sfida da affrontare è l'innovazione, quindi per questo a maggior ragione dobbiamo avere un occhio di riguardo verso le piccole aziende che hanno maggiori difficoltà perché sono strutturate, non hanno strumenti adeguati ad affrontare tutto quello che riguarda il tema della ricerca e dell'innovazione. Proprio per questo come provincia stanzieremo, come dicevo poco fa, 2 milioni di euro a favore della possibilità di offrire la possibilità di fare dei check up alle proprie aziende per verificare quelli che sono i limiti strutturali, finanziari e in più gli si dà la possibilità attraverso un altro progetto che si chiama Just in Time di abbinare, se c'è un'esigenza di ristrutturazione, anche una formazione adeguata per il proprio personale. Just in Time perché è un progetto, è questa la vera innovazione che è veloce, perché l'altro problema vero di questa crisi è dare risposte immediate e non a distanza di mesi perché non sarebbero più idonei. Quindi il Just in Time in 30 giorni un'azienda può presentare un progetto e nei 30 giorni successivi la provincia lo esamina e può farlo partire, proprio per qualificare, aggiornare il personale, perché la sfida è proprio questa, innovarsi, trovare anche formule nuove e di qua anche bisogna diventare creativi in momenti come questi. Ho avuto la possibilità di partecipare ad un seminario europeo, c'è uno studio che l'Unione Europea ha svolto che ci dimostra che da qui al 2015 ci saranno 15 milioni in Europa di nuovi posti di lavoro, a fronte dei 3 o 5 milioni che si stanno perdendo, ma c'è una forbice, la forbice è sempre più larga fra il lavoro altamente qualificato e il lavoro non qualificato, per cui c'è un'esigenza sempre maggiore di formazione perché la selezione sarà proprio su quello. Allora, Assessore Seri, lei ha parlato sostanzialmente di un coinvolgimento anche del mondo delle imprese, di un patto che comunque la provincia ha portato avanti. Si parla tanto in questi giorni del tema delle infrastrutture, autostrada, secondo casello, eccetera, eccetera. Che ruolo possono giocare le infrastrutture nel rilancio, nella ripresa economica del nostro tessuto produttivo? Sicuramente le infrastrutture svolgono un ruolo fondamentale in un momento come questo, anche se non è l'unico elemento determinato, sono un insieme di elementi che compongono e determinano un determinato percorso. Proprio in questi giorni si è parlato, si sta parlando del secondo casello, sia o no, nella città di Pesaro. Ecco, mi sento di dire, anche forse in modo, anche in tono un po' critico, che ho un pizzico di delusione per quello che è stato il processo, il percorso che la classe dirigente, sia politica ma anche della società, ha manifestato e dimostrato in questa fase. Mi è sembrato in alcuni momenti più di un dibattito tra quartieri, quando in realtà non si è capito che la questione del secondo casello è un aspetto strategico che rientra in un progetto che deve esserci, che riguarda tutto il territorio provinciale, che riguarda le due città più grandi della provincia, Fanno e Pesaro, ma non solo, ma riguarda l'entroterra, perché si deve avere la capacità di avere un progetto globale che riguarda le infrastrutture, che riguarda i servizi, la qualità dei servizi, che riguarda anche obiettivi ambiziosi che si deve avere per il futuro. La sensazione che ho avuto è che abbiamo una classe dirigente, anche politica, che non è ambiziosa. Ringraziamo Massimo Seri, da www.cittàfuturainfo, Stefano Gattoni, alla prossima. Grazie.